Musica Busti, tutori e protesi di arto personalizzati Ortopedia e sanitaria Lolato Atreviso e Montebelluna Lolato, soluzioni per star bene Benvenuti al Meteo Anticiclone ancora ben saldo sull'Italia Dunque bel tempo e clima mite sul nostro territorio Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 7 settembre Sul Veneto la giornata trascorrerà l'insegna di un ampio soleggiamento ovunque Come vediamo dalla grafica Il cielo sarà sereno e sgombro da nubi, piogge assenti Temperature stazionarie minime sui 13-20 gradi Massime comprese tra 27 e 30 gradi all'incirca Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia Anche in questo caso tanto sole con cielo sereno Al mattino tuttavia nel fondo valle Tarvisiano sarà possibile qualche nebbia o nube bassa Temperature minime tra 15 e 19 gradi Massime sui 28-30 gradi Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige Dove il tempo risulterà piuttosto soleggiato con cielo spesso sereno Temperature minime intorno ai 16-17 gradi Massime sui 30-31 all'incirca Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto Grazie per l'attenzione Arrivederci Entra nel mondo lolato Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita Centro del piede con servizi di podologia Laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura Grazie per la visione